La Nissa intende ripartire da tre punti fermi per altrettanti reparti. Garofalo in difesa, Illario a centrocampo e Retucci in attacco. Il direttore sportivo, biancoscudato Massimo Ferraro, sta lavorando alla conferma dei tre calciatori, intorno ai quali costruire la squadra della prossima stagione. E per allestire un organico di primo ordine, in grado di imporsi sin dalle prime battute di campionato, il club presieduto da Sergio Iacona vuole agire in netto anticipo rispetto alla concorrenza. Tant'è che sono diverse le trattative già avviate con altri atleti, alcuni dei quali hanno appena concluso la stagione nel campionato di Serie D. Ovviamente non è solo una questione di tempestività, occorre tenere conto anche del budget a disposizione. Intanto i tifosi guardano con fiducia al nuovo progetto Nissa, dopo la fusione con l'Atletico. I commenti sui social sono positivi e in molti attendono la campagna abbonamenti, sperando in prezzi incoraggianti. L'obiettivo della dirigenza è quello di riportare il pubblico allo stadio, anche con una serie di iniziative che favoriscano il riavvicinamento di un massiccio numero di tifosi, soprattutto di quelli che nel tempo hanno perso l'abitudine di recarsi allo stadio la domenica. In ogni caso saranno fondamentali i risultati del campo. L'eccellenza sta stretta a un capoluogo di provincia come Caltanissetta, ma non può esserci salto di categoria senza la partecipazione attiva della città.